Come è il mondo digital? Si cresce molto bene soprattutto sulla parte video e quindi mi riferisco chiaramente sia a performance editoriali che a pubblicitarie, si cresce chiaramente a doppia cifra come tanti operatori del mercato, abbiamo praticamente un bacino video completamente saturo e ciò significa che il nostro è un prodotto di qualità che piace agli inserzionisti pubblicitari e quindi tutti gli spazi sono già prenotati. Margini di crescita ce ne sono ancora tanti perché sappiamo benissimo che non possiamo vivere di rendita su una posizione tradizionale televisiva che ci vede ancora tra leader e protagonisti mentre il mondo digital e internet è molto frammentato e possiamo e dobbiamo fare molto di più per conservare una posizione predominante anche qui. Per questa edizione di Hub Forum ci siamo presentati al mercato, è una fase di transizione per noi perché a breve ci presenteremo al mercato ma prima della fine del 2012 con dei portali completamente nuovi. Non erano pronti per questa edizione di Hub Forum per cui le novità che abbiamo lanciato qui a ottobre 2011 sono un'applicazione MHP nuova per quanto riguarda i contenuti regionali, quindi i contenuti RAI, TGR che sono una peculiarità chiaramente del servizio pubblico, arrivano anche sugli schermi televisivi attraverso TV set e set of box connessi. E poi la nuova applicazione di RAI 5 che è il primo canale RAI nato all digital, tra poco farà un anno e abbiamo annunciato il nuovo rilascio di un'applicazione iPhone di RAI 5 che consente oltre alla possibilità di vedere alla diretta anche di interagire meglio col mondo social e di fruire di più contenuti on demand.